24 ore di allerta continua dei soccorsi dalle 12 di sabato a mezzogiorno di questa domenica. Tra le notizie drammatiche vi è quella di un sessantenne travolto e ucciso dal treno della linea Brescia-Edola al passaggio a livello di via risorgimento a Corte Franca ieri mattina. Nel pomeriggio a Palazzolo, in località Ripa del Bosco, lungo la Fusia, Sara Picotti di 46 anni, madre di due gemelli di 10 anni e di un ragazzo di 14, è morta annegata, trascinata dalla corrente del canale mentre faceva il bagno con i figli. Il suo corpo è stato ripescato poco dopo a Palazzolo da un uomo che è riuscito a trascinare la riva assieme ad altri bagnanti. I soccorritori giuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il discesso della donna. Poco dopo le 7 di questa domenica mattina in Viale Europa a Clusone, un 27enne la guida della sua auto, Station Wagon, mentre procedeva in direzione Bergamo, ha perso il controllo dell'auto ed è finito a sbattere violentemente contro un muro alla sua destra. Inmediato l'allarme, sul posto sono intervenute l'ambulanza da terra dei volontari della Presolana, l'automedica, i carabinieri di Ardesio e i vigili del fuoco di Cazzaniga, mentre da Bergamo è giunto l'elicottero del 118. Nell'impatto il giovane ha riportato diversi importanti traumi, soprattutto da schiacciamento. L'elicottero del 118 ha quindi provveduto a trasferirlo in codice rosso all'Iguarda di Milano, dove è giunto alle 9.28. La giornata di sabato ha registrato anche un numero elevato di incidenti, infortuni e malori. A Caino, nello scontro fra le due moto, ci sono stati quattro feriti, di cui uno trasferito in codice rosso con l'elicottero all'Iguarda di Milano, due feriti gravi anche a Montechiari, nello scontro tra un'auto ed una moto. L'elicottero del 118 è intervenuto a Paesco Loveno per soccorrere un'ottantenne colto da malore dal rifugio Bozzi per un 61enne che si era infortunato. Alle 18.30 l'elicottero di Verona ha soccorso una bambina di 11 anni a Salò colta da malore, trasferendo all'ospedale Borgo Trento di Verona. Quattro feriti anche a Marcheno nello scontro tra due auto. Un 62enne colto da malore ad Adrara San Martino è stato soccorso in serata dell'elicottero di Brescia e alle 5 del mattino in questa domenica a Lumezzane si registrano quattro feriti finiti con l'auto contro un ostacolo. Infine, poco dopo le 11 di questa domenica mattina, l'elicottero del 118 di Bergamo ha soccorso un ciclista feritosi a Serina per una brutta caduta in bicicletta. Grazie a tutti.